e poi ne ripariamo oh no 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 sono laureato stretto e sarò eletto giudice federale è meglio che stia molto caldo agente Bucchi grazie si aveva un momento sta tutto sui davanti cosa erano tutte quelle proprie? la telefonata registrata, la sedizione dell'armanetario di un quadro di persone non citavo una parte, il poliziotto in gamba si procedeva come no, so che la chiami meglio come no, so che la chiami meglio che cosa ti succede? che è la chiami calda servono a me e a Zappi per me stai a me ho parlato con la dottoressa Gatti mi ha chiesto di portare delle foto ma sono riuscita a trovare solo questa non credo, ti servano molto per questo sto cercando la foto del matrimonio vi siete sposati sulla spiaggia? l'hanno fatto il bambino dopo la telefonata della dottoressa Gatti mi sono ricordata che qualcuno mi ha scattato l'istantanea subito dopo il mio signore e io l'ho usata come segnaligro ma non lo riesco a trovare che genio che odio dovrebbe dire la storia del mio matrimonio non sapevo neanche il suo nome ma certo mi guarda come se fosse pazza lo sei grazie a te ma che amo non c'era un po' tironia non basta ti adoro perché sei così tu sei sposata con lui e adesso sposerai me tutto il resto è pronto e io dovrei accettare consigli dal tizio che va in giro con te per me sono Cantalubi una qualità speciale per ricercare di rinnessare